Volevo sentire Claudio Amendola, sta arrivando il ministro Franceschini, ma volevo chiedere a Claudio cosa succede per il suo mondo, perché c'è il teatro, c'è il cinema, c'è la musica, c'è un mondo di cultura e intrattenimento che sembra in questo momento quasi un lusso, invece in realtà parliamo di un pezzo che è arrivato Franceschini, lo ringrazio molto e lo saluto, e invece in questo tempo sembra quasi, invece è un pezzo di economia molto importante, in cui ci sono persone che dall'oggi al domani, boh, non sanno cosa accadrà. Ma poi soprattutto Mirta c'è una cosa importante secondo me da dire, che l'attenzione sul mondo dello spettacolo è sempre rivolta ai protagonisti più famosi, ai protagonisti più fortunati, insomma, e noi diciamo che mi inserisco in questa schiera, tutto sommato abbiamo delle carriere, delle fortune avute negli anni precedenti che ci permettono di stare anche fermi, insomma, ma il mio pensiero va invece agli attori, alle attrici che tirano a campare, che rimediano due pose in una fiction, tre pose in un'altra, che fanno una settimana in teatro alternando momenti di non lavoro e quindi di disoccupazione, noi siamo un popolo di precari e quindi è più a loro che magari anche alle stesse maestranze che comunque hanno una disoccupazione abbastanza seria che li copre per gran parte dell'anno, specialmente a chi ha lavorato di più, non è per tutti uguale, però insomma ci sono, il Ministro ce lo potrà confermare, insomma, degli ammortizzatori sociali nel campo dello spettacolo abbastanza importante, la SIAE ha fatto qualcosa per gli autori, io ho lanciato l'idea che l'Imaie per esempio potrebbe mettere a disposizione i nostri proventi che sono un surplus, una cosa in più, un regalo che ci viene tutti gli anni dai diritti, che potrebbero essere messi a disposizione magari per tutti gli attori che invece non lavorano da marzo e forse non lavoreranno fino a quando, Ministro? Esatto, perché c'è anche questo, cioè secondo me il tema della prospettiva è un grande tema. Ministro Franceschini, buongiorno, ben trovato, grazie di aver trovato il tempo per noi perché ci tenevo ad aprire questo tema di cui si è parlato forse troppo poco fino ad adesso. Voi avete fatto molte cose per quel settore, adesso ci arriveremo, però certo sulla home page del suo ministero campeggia un cartello che dice Covid-19, nuove disposizioni urgenti, tutto chiuso in Italia, cinema, teatri, musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche. Fino a quando, dall'8 marzo questo è successo? E fino a quando abbiamo una prospettiva? Beh, certo che abbiamo una prospettiva, però la prudenza con cui bisogna approcciarsi a questa seconda fase è importante non ci può essere un gestire prima la fase delle restrizioni poi adesso la fase degli allentamenti in base a ondate emotive per cui si può passare da prudenza totale, improvvisamente tutto finito. Purtroppo abbiamo capito dalla comunità scientifica che ci sarà una lunga fase di convivenza, almeno fino al vaccino in cui bisogna tornare alla normalità ma vivere con delle modalità di sicurezza e di precauzione molto più forti. Per questo anche nel nostro settore, se non dico il nostro perché io ormai mi sento strutturalmente parte di questo settore, nel settore della cultura ci sono delle attività che sarà più semplice di aprire. Penso a un museo... Ecco, bravo, io volevo arrivare lì, Ministro, perché naturalmente un museo ce lo immaginiamo come possiamo andarci. A un concerto con la gente pigiata o in un teatro con il mio compagno di sedia è più complicato e lì forse... Non c'è dubbio, sta dicendo delle cose ragionevoli che si capiscono a buon senso. Un museo rispetti le distanze, fai degli accorgimenti sulle file, la sanificazione e puoi affrontare il problema. I luoghi per natura affollati hanno dei problemi aggiuntivi, aggiungo quindi concerti, teatri, cinema, ma aggiungo in alcuni casi il problema non è soltanto in platea, il problema è anche sul palco, perché è difficile per esempio immaginare il coro dell'Aida cantato con la mascherina, quindi ci dovranno usare degli accorgimenti, bisogna adattarsi. Io ho chiesto e sto attendendo in tempo breve delle indicazioni, come lo stesso problema che si pongono i negozi o le fabbriche, per poter riaprire in condizioni di sicurezza quale misure possa consentire di riaprire. Scusi, a proposito dei grandi eventi, no? Faccio solo fine di questo, sto lavorando a un'idea siccome non sappiamo ancora, anche se tutti mettiamo fretta, ma le risposte devono arrivare su basi scientifiche di sicurezza, non sappiamo ancora quando alcune attività, penso per esempio i concerti, potranno tornare a svolgersi nella loro normalità, di trovare delle forme di offerta online, non in modo straordinariamente spontaneo, ricco, volontario, come è avvenuto in queste settimane, ma anche in modo da poter avere spettacoli online che producono reddito e quindi entrate pagando il biglietto. Stiamo ragionando su questo, su un'idea di piattaforma, insomma, per poter, nella fase dell'emergenza, cioè se no al ritorno della normalità, poter avere spettacoli che magari vengono aperti a pagamento online. Questo è un tema che ha anticipato la mia domanda. Però io voglio dire una roma anche su quello che ha detto Amendola, perché ha detto cose molto giuste. Sì, adesso ci arrivo, però mi dico una cosa, mi perdoni, ho una domanda io, poi le faccio rispondere ad Amendola. Gli eventi estivi, noi sappiamo che nel nostro meraviglioso paese l'estate è un momento in cui succede di tutto dal punto di vista culturale e che io sappia alcuni sono ancora in piedi. Possiamo pensare che ci arriveremo o dobbiamo invece pensare che saranno tutti annullati? La semplificazione della comunicazione, fa sì che uno dice una cosa e immediatamente diventa un annuncio. Io devo dire che vedremo, nel senso che faremo tutto ciò che è possibile rispettando le norme di sicurezza per il pubblico e per gli artisti. E le norme di sicurezza non le decide né l'artista né il politico, ma la decide la comunità scientifica, il comitato scientifico, che ci darà delle prescrizioni. Se ci diranno che è possibile aprire un luogo, un cinema, rispettando le distanze o usando accorgimenti nelle entrate, lo faremo subito, ma dobbiamo fare quello che ci viene detto. Allora, voleva rispondere ad Amendola. Sì, ha detto una cosa molto giusta, perché quando si pensa al mondo dello spettacolo, si pensa alle persone famose, ai big, quelli che comunque hanno, per fortuna, dei mezzi per affrontare un'attesa di non lavoro, come questa. Ci sono migliaia di persone straordinarie che invece vivono da sempre nel mondo dello spettacolo, perché seguono una vocazione, due cinema, non hanno i mezzi per affrontare un periodo di non lavoro. Per questo abbiamo fatto intanto questo incentivo di 600 euro, che probabilmente diventeranno 800 euro, che vale per molti di questi lavoratori. Stiamo individuando quelli, i cosiddetti lavoratori intermittenti, che non sono stati coperti da quell'ammortizzatore per trovare degli interventi straordinari. In più, con questi 130 milioni, che vedete che sono i primi interventi che sono stati erogati straordinari, e con altri fondi che derivano da una norma che dedicava una parte dei fondi della CIA alla formazione delle scuole, li finalizzeremo le prime risorse per tutti quei lavoratori, che uno sia un elettricista che lavora sul palco, che uno sia un attore, tutto quel mondo dello spettacolo che non ha mezzi per lavorare, anche i giovani autori che vivono con i pochi diritti dell'autore adesso non prendono nemmeno anche quelli, quindi andando sotto un certo legno per dare un contributo universale a loro per far aiutarli a vivere. In più, continueremo a erogare il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, le risorse del cinema, anche senza la pretesa giusta della legge, nell'ordinarietà, del rispetto di un certo numero di spettacoli, un certo numero di eventi, sui parametri, per avere i soldi del FUS. Li erogheremo ugualmente, anche senza il rispetto di quei parametri, quindi insomma per aiutare tutti i clienti a superare questa fase di difficoltà. Sono sempre sincera, come sapete, voi che mi seguite, io penso abbiamo fatto un sacco di cose al Ministero di Franceschini su questo tema. La domanda però che le faccio è un'altra, ma quando arrivano in mano le persone questi soldi? L'ultimo ho parlato con un signore che fa una pizza meravigliosa che si chiama Sorbillo e mi ha detto la cassa integrazione ai miei dipendenti non è ancora arrivata, cioè abbiamo un problema di urgenza. Su quello state lavorando? Su quello stiamo lavorando, una parte degli interventi sono già arrivati, sapete perfettamente che la pubblica amministrazione italiana non è una delle più veloci del mondo, ma stiamo lavorando alla massima velocità possibile, quindi le risorse arrivanne e in parte sono già arrivate. Allora, Franceschini, volevo farle vedere una cosa, ci ha mandato un video, una persona che è stata l'anima del teatro Parenti. Io vorrei però che si sapesse, lo dico perché non è che io devo difendere la pubblica amministrazione, io tutti quelli che incontro a tutti i livelli dentro la pubblica amministrazione, nel sistema bancario, stanno tutti lavorando al massimo, non c'è nessuno in questo momento che non ha capito l'urgenza di far arrivare questi aiuti subito alle persone, dal legislatore fino all'ultimo impiegato.